Siamo a tutti ragazzi ben ritrovati siamo su un certo di quattro e dopo quattro mesi che ho il gioco finalmente ho provato il multiplayer devo dirvi che è una cosa molto bella c'è in terza persona e almeno qua non muore in due colpi come in call of duty ecco qua dunque dico proviamolo ho già trovato la mia classe preferita con la mitra di ecco eccola qua poi c4 poi c'è uno degli oggetti mistici tipo vedete il sentiero di indra spirito dei gc roba che avete già visto nei vecchi anziane poi mi sono messo un po tu io che fa cagare personalmente o cerchiamoci personaggio io dico sì sì gli occhi io messi io è qua dopo un po di tempo e da un po che non lo rimetto più o guardate tutta la fierezza di contro di quelli contro dei nostri ma donna cara guardate finalmente cominciamo infatti o e vedete che interessa persona e quindi tutto migliore dovrebbe arrivare da lì eccolo la 1 ecco è se c'è uno scopo e poi c'era in due mele al gioco quando ha buttato giù uno riesco a prenderlo no non perché non mi è andato c4 ma mi hanno già trovato e dal lato non posso prevederlo mi sa che c'è qualcuno può eh sì dietro di me ma porca si corrompino mi voto fuori ma cazzo stiamo facendo un po cagare però eh giusto un po e vabbè anti sgamo la mina eh decisamente ma cattro ma cattro ma non posso fare uno contro uno che mi vengono alle spalle dai mi giuro che sono più bravo a questo gioco vi giuro che gioco meglio di solito e senza perdere 7 a 3 7 a 14 non potevo scegliere una partita peggiore sì sì guarda dove ti sono anche io che mi ero di merda veramente sì subito vieni addosso eh vieni addosso sto andando un po meglio leggermente di qua mi sembra eh non c'è uno che scappa quindi c'è un buon motivo per cui scappare qua eh sì lì 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 va beneii lìlì lì 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 lìì lì lì ha solo in mezzo a qua di nostri dove ogni cosa ho visto ecco lì lì agonore non è il partner quello è il partner ha sbagliato e 2 via tu fai tu fai? no 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 è qua 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 l'ho ammazzo io l'ho ammazzo io lasciatelo a me lasciatelo a me devo fare la sci torca troia arrivo non me non me non me non so aspetta 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 volevo salvarlo porca troia no scappa 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 venimi qui a prendere posso avere un po' di aiuto anch'io no e mi servirebbe porca troia siete dei figli della merda lo sapete veniamoci il partner quello grosso e sono penultimo su 5 che come essere ultimo in una gara a2 esposto come un museo come una vetrina in un museo guarda ah ci sono un... vieni qui vieni qui vieni... eeeh cazzo dove è? no l'ho perso dov'è? vengo a prendervi l'ho fatto esplodere a casa lo so ma scusa ma chi è che... chi è che stiamo sparando? bravo coglione bravo coglione vacci in mezzo coglione io bravo e verso almeno una volta ah c'è anche il partner camberino pfff già fatto fuori prego non c'è di che fuggono terrorizzati aha di qua se non mi sbaglio un po fa nulla che è stato? arrivo 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 ti aiuto io ma com'è che sono morti in drammi che sono finiti in drammi scusate eh porca troia eh si non me ne ero me ne sono accorto all'ultimo proprio prima di oh ok eh eh già 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 ok ok un altro partner colosso bene serve a quasi un cazzo ma almeno ce l'hai non c'è nulla mi sembra cazzo con la pistola perchè non voglio buttare proiettili se voglio buttare proiettili voglio farlo bene altri? nemico se non sbaglio cazzo si ma quanti sono? ma ma mai è possibile che me ne trovo? me ne trovo zero in tutta la mappa e poi cinque qui tutti indietro l'angolo ah ah un tipo no il cacciatore cacciatore ah no il soccorrito era sbagliato ma vostra madre puttana paese degli scarafaggi si si nascondono sotto sotto la merda 36 e 39 ci sono anch'io eh ho perso che che si è fatto ammazzare scusate allora ho fatto otto morti e undici kill bene e undici abbattimenti ah beh si avete visto come il gioco no? ecco qui dai non è proprio cattivissimo quindi se mi piace un tipo in terza persona tipo the division quello non ho mai provato ok ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi continuate a seguirci